ciao a tutti ragazzi c'è tutte ragazze benvenuti e bentornati sul mio canale oggi video unboxing della beauty box di look fantastic del mese di dicembre vi avevo detto gli scorsi mesi che avrei cancellato questa abbonamento in realtà durante il mese di novembre la beauty box mi era piaciuta parecchio e per tale motivo ho deciso di posticipare diciamo questa questa annullamento insomma della della beauty box quindi ho deciso di portarla avanti ancora per un altro po in ogni modo ieri ho ricevuto la beauty box di look fantastic di questo mese di dicembre devo dire che anche questo mese è molto molto carina adesso vi farò vedere tutto quello che ho trovato all'interno e come sempre anche durante questo mese insomma la box l'ho ricevuta all'interno di questi cartoni riciclati proprio per salvaguardare l'ambiente con all'interno come sempre ho trovato il qr code che appunto se scannerizzato vi dà appunto accesso a quelle brochure che si trovavano prima all'interno delle beauty box e dice appunto che il prezzo della box è di 13 pound io vi parlo in pound perché vivo in uk ma in italia ha un costo che si aggira intorno ai 15 euro e in ogni modo i prodotti trovati all'interno hanno un valore hanno un valore che supera i 50 euro quindi devo dire che sempre un affare inoltre non si pagano nemmeno le spese di spedizione quindi secondo me ne vale la pena devo dire che anche per questo mese ho trovato vari prodotti che non riguardano soltanto la skin care o le care ma anche accessori make up eccetera eccetera e come sempre look fantastic fa una selezione piuttosto variegata quindi non mette soltanto prodotti di una determinata categoria o di un determinato marchio range di marchi ma anche di marchi meno conosciuti ed è una cosa che secondo me molto molto carina perché dalla possibilità veramente di conoscere nuovi marchi e di ampliare quelle che sono le proprie conoscenze in ogni modo per chi non lo sapesse look fantastic che appunto un sito che rivende tantissimi prodotti non soltanto di make up di skin care di air care di body care accessori eccetera eccetera ma soprattutto molto molto spesso alla possibilità la possibilità di acquistare prodotti che appunto ci interessano applicando degli sconti veramente pazzeschi devo dire che anche quest'anno durante il periodo del black friday sono stati fatti in assoluto gli sconti più altri insieme a cult beauty devo dire infatti ho ne approfittato comprato varie cose e vi dico già che il prossimo video sarà un video mega haul di danni che ho fatto durante il black friday quindi rimanete sincronizzati ecco tra l'altro ne approfitto per dirvi che se ancora non siete iscritti al canale che cosa state aspettando iscrivetevi al canale attivate la campanella in modo tale che ogni qualvolta faccio delle pubblicazioni ricevere una notifica e avete modo di vedere appunto i contenuti non costa nulla ma è soltanto un aiuto che potreste darmi per farsi appunto che questa piccola community cresca sempre di più in ogni modo vanno alle ciance direi di iniziare i prodotti all'interno sono questi ve li faccio vedere così ma adesso li vedremo nel dettaglio il primo prodotto che ho trovato è un prodotto che mi ha incuriosito particolarmente motivo per il quale lo utilizzerò subito e poi ovviamente ve lo recensirò una volta terminato sto parlando di questo wow one minute transformation styling cream ed è appunto di questo marchio the color wow che è un marchio che devo dire mi piace tantissimo di questo marchio avuto modo di provare lo spray per il styler e soprattutto termoprotettore per i capelli che mi ha letteralmente fatto impazzire lo utilizzo lo utilizzo veramente spesso e ve ne parlo spessissimo e questo qui è un prodotto molto interessante perché in realtà ha lo scopo di nutrire capelli ma allo stesso tempo eliminare le incrispature farsi appunto che i capelli si comportano meglio allo styling ecco non come oggi e in un formato da 30 ml quindi volendo è anche un prodotto travel friendly ed è una cosa particolare perché comunque un prodotto di 30 ml del genere vi dura parecchio tenendo conto che basta soltanto una noce di prodotto va massaggiato sulle lunghezze lasciato agire soltanto un minuto e poi ovviamente si prosegue con lo styling è un prodotto che sicuramente durerà tantissimo quindi vi ripeto in un formato da 30 ml però secondo me durerà tantissimo un altro prodotto molto molto interessante di cui però già ve ne ho parlato in passato è questo nourishing rich body oil di rituals sapete il mio amore profondissimo per rituals sapete che io amo tantissimo rituale ovario veda rituale of karma in assoluto la mia fraganza preferita rituale sakura mi piace tantissimo in ogni modo amo tutte le linee di rituals forse rituale of jink quella del pecco verde è quella che mi piace di meno ma devo dire che negli anni mi trovo veramente molto molto spesso ad acquistare i prodotti di questo marchio perché mi piacciono tantissimo sono una vera e propria coccola per il corpo ecco e questa volta ho trovato un olio nutriente per il corpo di questa linea ritual of ayurveda in un formato da 30 ml quindi travel friendly ma devo dire che tenendo conto è appunto un prodotto olio per il corpo durerà abbastanza ecco questo qui ha come fragranza la rosa indiana e il l'olio di mandorla ecco ed è una profumazione che a me piace particolarmente utilizzare soprattutto nei periodi di transizione quindi quando siamo verso la fine dell'estate all'inizio dell'autunno ma soprattutto durante la primavera e l'estate ecco mi piace tantissimo è un olio nutriente che va letteralmente a nutrire la pelle a combattere le secchezze e soprattutto non unge viene assorbito dalla pelle lasciando la pelle veramente morbidissima quindi un prodotto fenomenale terzo prodotto anche questo un prodotto che volevo provare da un po e non mi ero poi mai approcciata insomma ad acquistarlo perché ho altre cose che volevo smaltire è un prodotto detergente di fresh di fresh devo dire non ho mai provato nulla forse soltanto qualche referenza che adesso non ricordo comunque questo qui è il cleanser detergente alla soia ed è il prodottino di cui per tanti anni se ne è sentito parlare stra stra bene io sono ancora lì che voglio provarlo e questa è l'occasione buona per farmene un'idea perché l'ho ricevuto all'interno di questa box in un formato da 15 ml quindi un formato sufficiente per capire se un prodotto che vale la pena o meno puoi acquistare in full size e devo dire che sono molto contenta tra l'altro è un prodotto ricco di aminoacidi un prodotto detergente per il viso nutriente allo stesso tempo e non vedo l'ora di utilizzarlo tra l'altro può essere utilizzato sia sul viso ma anche sugli occhi perché dice sia appunto molto molto delicato poi quattro po quarto prodotto è in realtà un accessorio di brushworks ed è questo cerchietto per i capelli così o non so come io non amo particolarmente cerchietti ve lo dico in particolar modo una testa molto molto grande infatti anche quando metti i cappelli spesso mi opprimono c'è un rapporto particolare ecco con la mia testa in ogni modo questa qui è carina è fatta molto molto bene spugnosa così io ho pensato di utilizzarla durante lo struccaggio quindi magari alla sera prima di fare la skin care me la metto faccio sia appunto che tutti i capelli vanno verso il retro e proseguo poi con lo struccaggio e la detersione sicuramente non è un cerchietto che utilizzerei per uscire perché lo vedo proprio spugnoso ecco non so come dire comunque il colore è molto carino e sicuramente perfetto per questa stagione invernale natalizia poi quinto prodotto make up ho trovato questa mini size del bet gal bang di benefit che è un mascara che sapete in passato utilizzate mi è piaciuto parecchio di arriali invece non mi era piaciuto particolarmente perché allungava ma non non le incicciottiva tanto invece questo che era molto molto carino perché le volumizzava particolarmente sto parlando delle ciglia e questa volta l'ho ricevuto in mini size però è comunque una mini size da 3 grammi quindi magari se si va in vacanza anche le so una decina di giorni non si vuole portare un mascara full size ma questo qui è perfetto ovviamente questo il pecc interno non lo apro perché non voglio appunto che parti il pao però è un bel prodotto ecco e infine ultimo prodottino ritorniamo sul tema della skin care ho trovato questo prodotto di revolution e della linea skin care london sto parlando dello 0,5 retinol with rosy si do il quindi un prodotto al retinolo con lo 0,5 per cento del retinolo e ha lo scopo almeno così dice di andare a combattere le rughe la comparsa delle rughe un prodotto al retinolo io non ho un rapporto d'amore con il nuovo quindi credo che questo qui lo regalerò ve lo voglio far vedere in ogni modo se ci riesco ad aprirlo senza rompermi un'unghia eccoci qua il prodottino è sigillato si è sigillato eccolo qua un attimo solo ed è questo qui quindi è un olio da utilizzare sul viso e ovviamente un prodotto che va utilizzato in piccola quantità altrimenti veramente non vi fate il bagno sicuramente va applicato durante una skin care serale lasciato agire questo durante la notte agisce si assorbe viene proprio assorbito dalla pelle e fa ovviamente la sua azione ingiovanente ecco e questi erano quindi tutti i prodottini che ho trovato all'interno di questa beauty box del mese di dicembre devo dire che anche questo mese proprio come il mese di novembre è stata carina perché sì ci sono in gran parte prodotti mini size quindi parliamo comunque di prodotti in mini size però la scelta dei prodotti mi è piaciuta in particolar modo in assoluto i prodotti che mi sono piaciuti di più sono sicuramente questo prodottino per i capelli il mascara e l'olio mi incuriosisce particolarmente questo qui probabilmente questi due non sono non sarebbero stati delle mie prime scelte però questa è più una cosa soggettiva ecco in ogni modo la box è comunque sufficiente tenendo comunque conto del rapporto qualità prezzo è sicuramente una box che supera la sufficienza fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa box se vi piace se l'acquisterete se ci sono dei prodotti che magari voi già avete provato e vi piacciono ecco io vi ringrazio se siete arrivati fino a qui vi mando un bacione e noi ci vediamo molto molto presto con un nuovo video ciao a tutti